Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali sulla statale 330 di Buon Viaggio ricordiamo il tratto chiuso per crollo del viadotto di Albiano Magra fino al 30 settembre tra incrocio Albiano Magra e incrocio Caprigliola statale 62 della Cisa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola tratto chiuso per lavori fino al 28 agosto tra l'incrocio Pontassieve e statale 69 di Valdarno e l'incrocio Rufina in direzione Firenze. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze. Al via da quest'oggi 24 agosto i lavori di risanamento dell'asfalto in via Baracca fino a sabato senso unico da via Legori a via Allori. Dal 31 agosto al 6 settembre scatterà la chiusura in orario notturno. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio!